Una campagna elettorale sotto tono senza coinvolgere a sufficienza i cittadini e così Alleanza per Padova ha deciso di commissionare dei sondaggi sui temi caldi della città per mettere al centro i padovani e avere così da loro indicazioni precise sulle priorità. È una campagna elettorale che posso dire è un film già visto da 20 anni. Credo che anche chi si candida dovrebbe proporre qualcosa un po' di diverso, ma vedo sempre le stesse cose, il sindaco uscente che taglia nasti dappertutto e il sindaco della controparte lo attacca su qualsiasi progetto che può proporre. Ma questo non è il modo di far politica, è un modo di far politica del secolo scorso, ci vorrebbe qualcosa di nuovo. Tra i temi più importanti, i soliti, tram, sicurezza, inceneritore, turismo, ma anche l'ambiente, Minasola si ispira agli ambientalisti europei e propone una soluzione che sta muovendo i primi passi in Italia e all'estero, le comunità energetiche che si possono attivare in poche settimane. Le comunità energetiche che sono la produzione di, mediante energia fotovoltaica, di sui edifici pubblici e compensionate e copubbliche vanno a fornire energia in autoconsumo, quindi senza cise, a tutte le famiglie che sono attorno a quelle centrali energetiche. Con due vantaggi, il taglio delle bollette e il calo dell'inquinamento, un'iniziativa da ripetere poi in tutti i quartieri. Quanto al coinvolgimento, chi deve essere chiamato per fare le scelte giuste per il futuro della città sono i professionisti. Il non coinvolgere per i progetti della città, l'ordine di ingegneri, l'ordine degli architetti, credo che sia una grande offesa per le eccellenze che abbiamo. Si parla di città in cui l'ecologia è parte dell'economia, anzi è parte trainante dell'economia. E credo ci voglia un amministratore per governare la città che abbia una visione un po' più ampia.